Musica Nella notte di domenica 11 marzo il Signore ha chiamato a sé Don Claudio Pontiroli, parroco della parrocchia di la Madonna della Neve di Quartirolo. La morte è avvenuta a causa del rapido decorso di una inesorabile malattia. Don Claudio è deceduto nella sua abitazione, circondato dalla vicinanza dei familiari, dei suoi parrocchiani, dei medici che gli sono stati particolarmente vicini. Nel corso della giornata di domenica aveva chiesto, pienamente cosciente, che si pregasse con lui e per lui e gli fosse amministrato da parte di Monsignor Vescovo il Sacramento dell'Unzione e il Santo Viatico. Figlio di Ario Pontiroli e Antonietta Gatti, Don Claudio è nato nel 1944 a San Felice sul Panaro ed è stato battezzato nella chiesa di Mortizzuolo. Entrato nel seminario di Carpi è stato ordinato presbitero nel 1969 dal Vescovo Artemio Prati. Ha vissuto la sua prima esperienza pastorale come viceparroco in San Francesco negli anni 70 insieme a Don Enea Tamassia. Qui ha cominciato a mettere il suo carattere esuberante a servizio del Vangelo, ha osservato il Vicario Generale Don Massimo Dotti, dedicandosi non solo alle attività ordinarie della parrocchia, ma allargando il campo della sua missione all'ambito dello sport, la sua amata pallavolo. Sempre in questi anni carpigiani è avvenuta per Don Claudio la scoperta del cammino neocatecumenale, nel quale ha creduto diventandone un entusiasta animatore. Trasferito a Rolo nel 1979, ha vissuto un'esperienza importante impegnandosi per l'oratorio, le attività ricreative del centro sportivo ed iniziare attraverso l'azione cattolica un impegno che l'avrebbe visto anche successivamente come assistente diocesano. Poi il trasferimento a Quarantoni nel 1983, dove sarà parroco per 15 anni, assumendo successivamente anche la cura pastorale di Gavello. In questo periodo ha insegnato religione presso il liceo di Mirandola, dove ha conosciuto tanti ragazzi e animato il cammino cristiano di fidanzamento in tante coppie. Monsignor Bassano Stafieri gli propose di tornare a Carpi come responsabile della parrocchia urbana di Quartirolo. Era il 1998. Come sempre l'entusiasmo accompagnò la nuova responsabilità che gli veniva affidata. Qui, tra le tante iniziative di cui si è fatto promotore, va segnalata la costruzione della nuova aula liturgica, dei locali per le attività pastorali e del centro giovanile, un'opera importante che ha realizzato riuscendo a coinvolgere con entusiasmo l'intera comunità. L'instancabile animatore dei bimbi e dei giovani, in particolare della Gesci, dinamico organizzatore della sagra parrocchiale tenace e sostenitore della festa del patrono di Carpi, sapeva coniugare la gioia con la solennità nella celebrazione liturgica. Per questo volle che in parrocchia nascesse la corale. Martedì 13 marzo alle 14.30 la nuova aula liturgica di Quartirolo era gremita, così come il piazzale antistante e la chiesa madre per i funerali. Il Vangelo aperto, la stola e la tunica, quattro fazzolette ai lati, e accanto a Don Claudio i ragazzi del catechismo, i lupetti e le coccinelle, sempre più vicini come ai campi estivi. Tra la folla, la commozione, ma anche la gratitudine per il dono che il sacerdote è stato per coloro che lo hanno conosciuto. Al termine dell'omenia, il vescovo si è rivolto ai giovani. Il modo più bello per esprimere gratitudine a Don Claudio, ha detto, è quello di prendere il posto da lui lasciato libero. Siate generosi con il Signore e il Signore lo sarà con voi. L'amore per la nostra diocesi e le sue radici lo ha portato ad impegnarsi per tenere vive figure di testimoni esemplari, come Don Zeno di Nomadelfia, Mammanina e soprattutto Odoardo Focherini come vice postulatore della causa di beatificazione. Ritorna per sua volontà a Mortizuolo, sepolto nel piccolo cimitero vicino alla chiesa dove è stato generato alla vita nuova in Cristo Gesù che ora contempla nella pace eterna.